Ben trovati a un nuovo appuntamento con Orobie Extra in edicola in questi giorni il numero di giugno di Orobie nel quale un articolo parla di Marco Zanchi, ultrarunner di fama internazionale che è qui con noi in studio. Saluto e che ringrazio di essere nostro ospite in questa puntata di Orobie Extra. Si parla di Marco Zanchi sul numero di giugno di Orobie perché in occasione dell'iniziativa di CAI Alpini e Soccorso Alpino e Spirologico Save the Mountains che si terra il 7 di luglio di quest'anno, hai messo in campo un progetto particolare che hai voluto chiamare Orobie Dunfiato e allora iniziamo subito a capire cos'è anche perché non si tratta semplicemente di correre sul sentiero delle Orobie da un capo all'altro nel suo complesso all'incirca 150 km più o meno, tanto per fare una piccola corsetta, ma è un progetto ben più ampio, a partire da che cosa? Allora, Orobie Dunfiato è nata da tanti anni di passione per la corsa in montagna, per tantissimi allenamenti in questi vent'anni che ho trascorso sulle Orobie e ho deciso di dargli un omaggio a modo mio, ovvero correndo, attraversandola, però in modo integrale, ovvero partendo da Cassiglio del sentiero 101 per poi concluderlo al passo della Presolana o percorrendo anche il tratto delle occidentali e delle orientali. Non ho precisato che il tuo progetto, Orobie Dunfiato, comincerà il giorno prima, cioè durerà 24 ore all'incirca, quindi il 7 luglio Save the Mountains, questa iniziativa tra i rifugi e i bivacchi delle Orobie bergamasche e non solo, e tu il 6 luglio partirai da Cassiglio. Esatto, la data l'avevo già decisa da un po' di tempo, però diciamo che si è unita a questa iniziativa del CAI, attualmente cercherò di essere all'arrivo del passo Presolana entro la domenica mattina proprio anche per non essere anche da intralcio all'iniziativa del Save the Mountains, però ecco è un progetto che come dicevo prima è nato tanti anni fa e con questa attraversata l'idea di raccontare la storia di tanti 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 anni delle nostre Orobie, da come sono nate, chi ha tracciato i primi sentieri, la storia dei rifugi e tanto altro, anche tanti protagonisti. Certo, perché diciamolo tu prima di correre, prima di portare a termine questo tuo obiettivo, in realtà ti sei trasformato in un topo di biblioteca e hai fatto anche della ricerca storica per poter dare delle risposte. Esatto, diciamo che ho iniziato a appassionarmi proprio anche in questi ultimi periodi, da un semplice annuario degli anni 60 che leggevo così tranquillamente una sera, ho cominciato a voler indagare un po' come sono nati questi sentieri, chi ha tracciato questo sentiero delle Orobie e da lì mi si è aperta una passione anche nell'andare alla ricerca di questi documenti storici. Ho avuto possibilità tramite il CAI di accedere all'archivio della biblioteca e ho scoperto tantissime storie, tantissimi particolari che poi trasformerò in un cortometraggio che realizzerò proprio in occasione di questa attraversata. Per cui questo sarà il tuo omaggio alle Orobie che tanto ti hanno dato nell'ospitarti nei tuoi allenamenti come atleta e così. Esatto, sì, è un po' un volere dare un riconoscimento a queste fantastiche montagne e portare a conoscenza anche a chi le frequenta da poco. Io parlo soprattutto a nome dei giovani che si stanno avvicinando ormai a questo mondo dell'ultratrail, anche grazie alle gare che sono state affrontate in questi anni. Quindi questo avvicinamento dei giovani sulle nostre montagne, in modo nostro, correndo, però molti non sanno la storia di queste montagne e danno per escluso che esistano da sempre questi sentieri. Invece questo modo di raccontare un po' a modo nostro, a modo mio, queste montagne. Ricordiamo che tu sei un ultrarunner di fama internazionale, non l'abbiamo detto, ma probabilmente molti lo sapranno già. Sei il tracciatore, vincitore due volte dell'Orobie Ultratrail, la gara da 140 km che si corre a fine luglio. Quest'anno no, si correrà l'anno prossimo sulle Orobie Bergamasche, partendo da Clusone e arrivando a Bergamo in Città Alta. Hai incontrato anche chi ha già realizzato negli anni passati un record sulle Orobie. Li hai voluti incontrare perché? Allora, diciamo che le Orobie sportive esistono da tanti anni, quindi seppure questo mondo dell'ultratrail è fresco, soprattutto qua in Italia, però già negli anni passati c'erano questi ultrarunner che non sapevano di esserlo. Quindi ho voluto proprio andare a incontrare questi personaggi storici, non voglio fare i nomi perché è una sorpresa che ci sarà anche nel numero e così, che mi hanno raccontato le loro attraversate, ovvero dai due tratti che tutti conosciamo, ovvero del tratto occidentale e del tratto orientale. Sono andato a farmi raccontare come è stata la loro esperienza da ultrarunner fine anni 70 e inizio anni 90, fine anni 90, di questi due personaggi e un modo anche per unirli, unire questi due record di questi due personaggi, unirli e dargli questa importanza anche a loro. Dal punto di vista organizzativo non sarà certamente una cosa semplice, nel senso che abbiamo detto ti sei trasformato in un topo di biblioteca, hai letto parecchio, hai guardato diversi libri, volumi, annuari, articoli eccetera, per raccontare una storia che è quella delle Orobbie, che è l'omaggio che tu vuoi dare alle Orobbie appunto, che tanto ti hanno dato nel corso dei tuoi allenamenti e delle tue gare. Ma quel giorno, in quelle 24 ore, chi ti sarà vicino? Tu partirai da Cassiglio mezza mattinata, si ipotizza, 24 ore dopo sarai al passo della presolana, Allora, l'organizzazione cosa comporta, soprattutto ci saranno tante persone vicino a te. Io avrò un minimo materiale di autosufficienza, come è solito usare nelle mie gare, però sarò accompagnato a staffetta da tanti amici, che mi daranno un po' di supporto, soprattutto nei tratti più impegnativi, ovvero dal passo Simal, che lo affronterò durante la notte, e anche al passo della porta, che avrò un paio di amici, di cui uno è una guida alpina, che mi aspetterà con imbrago, caschetto, per affrontare il passo della porta, avrò la via ferrata in sicurezza, naturalmente il lato della sicurezza non è mai da trascurare. Quindi difficilmente sarò da solo, avrò, come dicevo, amici preparati in queste avventure, che mi seguiranno a staffetta, ecco, in questo tratto. In più avrò dei filmmaker che mi seguiranno tramite droni per realizzare un po', ecco, i video principali, anche per trarre, diciamo, i spunti principali di questa storia. Una battuta finale, ma che non è di poco conto, ci sarà sì un tempo, ma non vorrà essere un record a tutti i costi. Assolutamente no, infatti non parlo di record, perché io parlo di record, sono principalmente, diciamo, orientati alle gare. Questa è un'avventura, un viaggio che voglio vivere, che voglio fare a modo mio, naturalmente il mio modo è di corsa, quindi ci sarà un tempo finale, anche perché non l'ha mai fatto nessuno così integrale, e vediamo come finirà. Spero che ci sia tanta gente, sono sicuro che ci sarà, il meteo non si può comandare, quindi la speranza è anche nel meteo. Noi facciamo il più grande in bocca al lupo a Marco Zanchi, ultrarunner per questa sua avventura, per questo suo progetto, per i curiosi, per chi volesse, sul numero di giugno di Orobia, e c'è, si racconta appunto tutto questo progetto, ogni particolare su quanto vuole portare a termine Marco Zanchi. Termina qui questo appuntamento con Orobia Extra, grazie per averci seguito.